Buonasera, oggi parleremo in breve degli aspetti processuali della prescrizione. Sappiamo benissimo che il tempo, il decorso del tempo rappresenti la misura del mondo e sia destinato ad incidere sui rapporti giuridici sulla pena. Sicuramente le interrelazioni tra tempo e diritto, tra prescrizione e sanzione, sono chiaramente evidenti, ce lo dice il professor Leone con una similitudine emblematica, la clessidra del tempo sfibra inevitabilmente le trame della pretesa punitiva statuale, fungendo dal limite esterno. Se questo è vero, è anche però vero che il tempo incide e condiziona il processo. La sede naturale dove il diritto penale si trasforma in azione, dove il dogma prende vita al fine di garantire il corretto accertamento del fatto di reato e eventualmente la punizione del colpevole. Sicuramente, e a prescindere dalle diverse posizioni accademiche, si tratta di un dibattito che ha ormai caratterizzato la dottrina, il panorama dottrinale e giurisprudenziale più recente, possiamo dire che la prescrizione non può in nessun caso essere declinata senza considerare le implicazioni e la realtà processuale in cui ovviamente si dà vita alle norme di diritto sostanziale. È chiaro che la prescrizione è inesorabilmente legata ai tempi del processo, al principio di ragionevole durata e quindi all'esecuzione dei processi penali che allo Stato sono caratterizzati da un numero elevato sempre più spesso, da un numero elevato di diputati, da un quadro probatorio sempre più complesso, dalla laboriosità degli accertamenti per poter procedere al giudizio. E non è un caso infatti che il legislatore abbia considerato uno stretto legame esistente tra prescrizione e processo penale. Riconoscendo ormai l'assioma per cui qualunque modifica in senso sostanziale dell'istituto non può e non deve appunto trascurare l'aspetto processuale. Lo diceva già il professor Fiorella nel 2013 quando nell'ambito della commissione che prende appunto il suo nome per la riforma della prescrizione, il professore aveva evidenziato la necessità di una riforma globale dell'istituto che potesse in qualche modo travolgere anche l'aspetto sostanziale. In effetti da questo trend non si discosta l'ultimo legislatore che sembra già con la riforma, con la legge spazzacorrotti 3 del 2019 ma ancora di più con l'ultima legge del 2021, la legge 134 del 2021, cosiddetta riforma cartabbia, sembra aver virato verso modifiche di natura processuale per scandire i tempi e la durata del processo. Ci focalizzeremo dopo sulle novità introdotte dalla riforma cartabbia sotto il profilo processuale, quindi sull'introduzione dell'istituto della cosiddetta improcedibilità. Quello che mi preme sostanzialmente diciamo brevemente ricostruire allo Stato è il dibattito legato appunto alla sede naturale dell'istituto della prescrizione, perché si è soliti notare una scissione netta sulle posizioni accademiche tra chi sostiene che l'istituto abbia interamente natura processuale e chi invece sostiene che l'istituto abbia natura sostanziale. È chiaro che mi soffermerò maggiormente sugli aspetti processuali, essendo una processualista non invado il campo altrui, dei miei colleghi sostanzialisti. Possiamo dire che questo dibattito che ha mosso soprattutto nell'ultimo tempo la dottrina non è destinato a rimanere confinato in astratti confini dogmatici, perché l'aderenza all'uno e all'altro profilo determina conseguenze rilevanti sotto il profilo di operatività del principio di legalità della pena e quindi del suo corollario dell'irretroattività in mala parte mi luogo del principio del tempo strage e tactum che governa più propriamente il sistema processuale. Se alcuni autori hanno appunto rivendicato la natura sostanziale della prescrizione sul presupposto che essa serva a frugare le incertezze della sorte di un cittadino perché l'oscurità in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti toglie dell'esempio della impunità rimanendo intanto il potere del re di divenire migliore. Questo lo diceva, pensate un po' Beccaria nella sua opera dei diritti delle pene del 1764. Beccaria, diciamo, metteva un tassello a quello che è l'istituto, il dibattito odierno, riprendendo la prescrizione, ricomprendendo la prescrizione e attraendola nell'ordine del diritto sostanziale sulla base del razzo sotteso all'istituto che risiederebbe nelle esigenze di prevenzione generale positiva e di prevenzione speciale. C'è anche chi invece, sotto il profilo processuale, ha ritenuto che la prescrizione non può essere slegata completamente ai tempi del processo, è indissolubilmente legato al principio di ragionevole durata del processo secondo il dettato di cui è l'articolo 111,2 della Costituzione che ne fa uno dei principi cardine del cosiddetto giusto processo. Per cui la prescrizione rappresenterebbe la durata dell'accertamento giudiziario sul fatto penalmente rilevante. C'è anche chi, in vero, assume una posizione intermedia ritenendo che la prescrizione abbia natura anfibia e cioè la prescrizione dotata di natura sostanziale ha degli effetti sul processo penale. Vi dicevo, non ci soffermeremo in questa sede sugli aspetti sostanziali della prescrizione che, come noto, sono stati oggetto di una profonda modifica già con la legge spazzacolotti nel 2019, modifica che poi ha iniziato a divenire molto più incisiva nel 2021 quando con la riforma cartabia viene svolto il sistema della prescrizione sostanziale a cui si aggiunge anche un'ipotesi di prescrizione, fatemi passare il termine, di natura processuale. Dobbiamo dire una cosa, però, prima di conoscere quelle che sono le novità della riforma e cioè che la riforma cartabia nasce come disegno di legge buona fede. Ed infatti la legge bicefala, come è stata più volte denominata, è un mix, è una sorta di compromesso tra le varie forze politiche, ma non va mai dimenticato che questa legge si innessa sulla proposta buona fede. ritoccando il governo Contebis, ritoccando sicuramente, modificandola e mai come il comma 2 dell'unico articolo, chiedo scusa, il secondo comma dello scarno articolato della legge 134 del 2021, non è l'emblema. È il mix, potremmo dire, tra il DDL buona fede e la riforma e la legge cartabia e le proposte della ministra cartabia che danno luogo a questa legge. Non soffermandoci, ve lo dicevo, sugli aspetti della prescrizione, come noto la riforma ha previsto una cessazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sia essa di condanna che di proscioglimento, andando praticamente a rimodulare il vecchio sistema della sospensione che in effetti suonava di paradosso, suonava paradossale, prevedendo invece che il decreto penale di condanna rappresenti una causa di interruzione della sospensione e non invece di cessazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Diverse le novità su cui io però non mi ci soffermo. Vorrei invece soffermarmi sulla questione della improcedibilità. La riforma, l'ho detto più volte, cerca di introdurre una nuova forma di scansione della durata del processo che abbia i connotati di una riforma tutta di natura processuale. Si prevede che al fine di garantire il principio della ragionevole durata del processo che va ricordato rappresenta uno dei principali obiettivi della riforma in ottica di rispettare gli obiettivi che il governo ha concordato con la Commissione europea per il cosiddetto PNRR e quindi la riduzione dei tempi del processo penale pari al 25% nel prossimo quinquennio, la riforma prevede un abbattimento, una riduzione dei tempi medici e liberazione dei giudizi di impugnazione introducendo il cosiddetto istituto della improcedibilità attraverso l'introduzione di un nuovo articolo, un articolo 334 bis, un articolo inedito che determinerebbe l'emanazione di una sentenza di proscioglimento o meglio una sentenza di proscioglimento se non vengono rispettati i tempi nei giudizi di impugnazione, cioè se l'appello non si chiude entro il termine di due anni, un ricorso per cassazione non si chiude entro il termine di un anno. In questo caso rispettando i termini previstati dalla legge Pinto, qualora non si rispettino tali termini decorrenti dal novantesimo giorno successivo al termine ultimo per il deposito della sentenza, bisogna emettere una sentenza di proscioglimento per improcedibilità. Due sole le eccezioni a questa ipotesi, cioè per i delitti puniti con la pena dell'ergastro, nell'ipotesi in cui l'imputato sceglie di rinunciare in sostanza alla pronuncia all'improcedibilità e chiede in sostanza la prosecuzione del processo. I termini possono subire delle proroghe. La regola vorrebbe la previsione di una sola proroga per un periodo non superiore ad un anno per l'appello e a sei mesi per la cassazione, anche se con il solito sistema della gradualità il legislatore prevede termini diversificati in rapporto ai reati gravi, quali criminalità organizzata, sessuali, traffico di stupefacenti, terrorismo, per cui si prevede un anno per il ricorso per l'appello e sei mesi per il ricorso per cassazione, e anche i delitti aggravati dal metodo mafioso dove si prevede la possibilità di operare per un massimo di tre proroghe, mentre per i reati gravi di cui ho parlato precedentemente sono previste più proroghe. Non posso invece soffermarmi sulla sospensione dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione che tendenzialmente riprendono quanto già ampiamente detto in rapporto e quanto già conosciuto sui profili di diritto sostanziale. Quello su cui voglio soffermarmi è l'importanza di una riforma organica sul sistema della prescrizione. Non voglio entrare nel merito della riforma cartabbia o delle scelte che hanno portato la Ministra ad intervenire in questo senso, però sicuramente un merito le va dato. Vedremo quello che accadrà nel breve periodo perché questa si tratta di una norma già tendenzialmente entrata in vigore. Quello che però preme sottolineare è l'importanza di metodo, l'importanza di aver comunque compreso, anche se in termini compromissori e sicuramente dai profili operativi discutibili, di operare una rivoluzione legislativa in chiave assiologica. una riforma che, almeno sotto il profilo della razza o che l'ha mossa, abbia tentato di rispondere al bisogno di ragionevolezza nella durata dei termini del processo e che comunque abbia provato a proteggere i principi satellite che governano, almeno dovrebbero governare il diritto e il processo penale. Grazie. 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 Grazie.